Se vogliamo conoscere quanto è veramente l'entità reale della sezione elettromagnetica, noi dobbiamo partire dal flusso elettromagnetico dato da 300 milioni di metri cubi al secondo e dividerlo, essendo elettromagnetismo, per la velocità elettrica che, misurata realmente nel fronte in 299 milioni errotti di metri lineari al secondo, determina la quantità della sezione e allora noi scopriamo che questa sezione è composta da uno più una quantità decima che dipende proprio dal valore inverso, ossia dall'uno fratto, un numero che è esattamente 1.444,4 con un seguito di 90,55,131,00 per arrivare fino alla dimensione unitaria dell'atomo. Cosa è questo numero? Questo numero è proprio l'idealizzazione, ossia il conteggio reale di tutte le dimensioni che noi abbiamo fissato come unitarie per la massa, ossia le mille masse unitarie di una massa che noi abbiamo collocato nel millesimo del metro cubo. Poi ci sono 444 unità come le tre dimensioni della dimensione 4 della nostra realtà, calcolate solo per le tre dello spazio multiplo del 10, mentre invece l'unità tempo è ancora un 4 calcolato nella dimensione del decimo del tempo. Poi seguono 90 quantità millesime come tutte quelle dell'energia appartenente a una unità che si sposti in tutto di 9 nel ciclo 10 e che valga quindi 90, laddove nel piano 100 c'è un 10 unilaterale che si pone al riscontro e determina che quindi tutto il moto del 10 nel 100 è dato da 90. Poi abbiamo un 55 che considera uno dopo l'altro, degradanti in dimensioni decimali, le due componenti a indice 5 e 5 sia del moto elettrico sia del moto magnetico. Quindi abbiamo un 131 seguito da due zeri, ossia un 1310 al livello dell'unità dell'atomo in cui ancora una volta abbiamo le mille unità della massa, poi abbiamo 3100 in cui 3.000 sono tutti i 3 per 10 al cubo metri dell'unità elettromagnetica e infine c'è un 100 che è il contenuto totale della sezione trasversale massima e unitaria data da 10 per 10. Quindi il numero dato da 1.444,4,90,55,131 e 0,0 fino alla dimensione unitaria atomica è il nostro modello dinamico unitario. Nel suo valore inverso, perché noi siamo sempre a osservare una realtà relativa al valore inverso, in questo valore inverso noi determiniamo una quantità che facendo la divisione di 1 diviso 1.444 errotti ci determina esattamente lo 0,00069 22 errotti che uniti alla dimensione unitaria di un metro quadrato determina la sezione reale che è quella che doveva essere perché è quella che poi moltiplicata per la velocità elettrica determina essa solo il flusso di 300 milioni di metri cubi al secondo il cui flusso ideale è lo stesso numero, ossia 300 milioni di metri al secondo, solo quando la sezione unitaria è quella ideale posta come 1 al quadrato e non come quella reale posta come 1,00069 22 errotti che noi abbiamo visto e che abbiamo riscontrato. Quindi risulta molto evidente e confermato che la fisica quando ha definito nella relatività generale E uguale MC2 una massa reale considerata solo nel suo quantitativo bloccato di energia che poi si muove solo per la velocità reale in un verso solo della luce non sta considerando la quantità di quell'energia che è stata bloccata nella massa e quindi non determina il valore davvero assoluto. Da questo deriva la impossibilità di unificare la fisica perché, amici miei, quando noi partiamo da un non rispetto dei valori unitari noi non capiamo proprio più assolutamente nulla. Il valore unitario che si muove è sempre dato dai 1000 metri cubi, dai 1000 decimetri cubi che sono la massa all'interno del volume unitario, ma anche abbinato a tutti gli altri modi di vedere di una nostra realtà a quattro dimensioni che però esistono in quattro dimensioni, tre delle quali maggiori di uno come multipli e una sotto multipla. Poi quel 90 che sono anche i gradi del nostro sistema ideale di riferimento cartesiano che ha un'angolazione di 90 gradi tra ogni asse, poi quel 55 che praticamente è la metà del ciclo 110 che assomma alle 100 dimensioni dell'area anche le 10 dimensioni reali del flusso e poi lo media nel valore elettromagnetico. Quindi abbiamo infine in 1310 unità atomiche, le 1000 unitarie nel volume, le 3000 unitarie nel piano complesso dato da 3000, ossia da quel 3 per 10 al cubo che avevamo visto era il contenuto totale elettromagnetico, più quel 100 che è il contenuto assoluto dell'area. Noi quando vediamo l'unità nel modo relativo la vediamo in relazione a tutte le nostre definizioni unitarie, alle varie dimensioni di 1, 10, 100, 1000, non ne vale una sola, valgono tutte. Bene, possiamo concludere in questo punto che l'unificazione della fisica può accadere quando si consideri anche il valore della sezione elettromagnetica e non una massa che non presenti in se stessa il quantitativo trasversale della sua energia. Solo allora potremo unificarla e arriviremo a unificarla sul numero 9, non sul numero 9,109 rotti che ci risulta per esempio come l'unità dell'elettrone, della massa dell'elettrone. E anche qui bisogna sapere che dobbiamo assolutamente modificare tutta la nostra comprensione che oggi abbiamo dei quantitativi unitari di materia. Non possiamo aggiungervi anche i quantitativi di antimateria, anche se essi appaiono in natura. Infatti quando noi fissiamo l'unità come 9 noni, 9 è l'espressione della materia, noni è l'espressione dell'antimateria. 9 noni sono l'unità complessiva del prodotto materia-antimateria, ma quando noi ne abbiamo una visione unilaterale e ridotta solo alla massa materiale, essa è 9 in virtù del valore 9 alla meno 1 dell'antimateria.